Aronello, ho bisogno di una cosa, niente sputa in faccia, niente ditta negli occhi, niente di tutto questo per favore, ok? Meno male, il mio problema è che mi sembra davvero un bruffolo qua, qua? Allora... Sì, finalmente lo posso fare. Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Famigieri e oggi siamo su Happy Wheels. Ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di Happy Wheels, non mi ricordo male, e con il nostro bel papà. Sì, perché l'ultima volta che abbiamo fatto Happy Wheels non abbiamo fatto nessun effetto particolare, l'abbiamo fatto un po' corto, un po' di fretta. Tu come stai? Bene, bene. Ma è inutile parlarci con te, tu stai sempre bene. Vai, vai, vai. Pedala, pedala. Sono di una difficoltà estrema. Mandala dentro la moto. La forza della papà. Voglio vedere come muori. Mea. Che schifo. Dicevi? Però è bella la vittoria. Cosa sono le Mentors queste? No! Per fatto che sei morto. No! Dico no. Il jack False! Eh! È un jackexplosion! Più li affristentano! Sono bellissimi! Sì? Oh! È un ripile questo! Non è bello ciò che è bello Ma è bello ciò che piace Aspetta, almeno aspetta che non ci sono Stai come in un letto di nuovo Che salgo E addirittura Devo guardarla ancora per molto Se fossi tu Si è seduto Che ci fai con il signore in mano? Vi stai punzecchiando il culo? Si Tutto È divertentissimo Vabbè andiamo avanti Sempre se riusciamo Oh, ti ha colpito nella maniera più assurda No Quella è riposizionata Come una bambu E la madonna Cadi Per Dio lo posso anche dire Che non si chiama No, no Questo è un segreto No Non è sempre di Diego Maestro E? È sempre di Diego Maestro 54 credo Vabbè andiamo avanti Vabbè andiamo avanti Non mi lascio Ma tanto ti colpisce la pallone Lo sono di braccia Io sto che per lì ce l'andava di qua Peccato che ci hai rimesso un braccio e due gambe Vai vai Provo io Oh scusa nonno Scusa anche lei Guardi Le sicuro che ritornerà a posto Tempo qualche giorno E la cura dovrebbe fare effetto Arrivederci signora Buon uomo Ma ci crediamo andare dove c'è la pallina Si L'ho fatto mettere a sedere Io Pensavo che vuole se vuole del meno Anche io 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 Scusa Qualche genere in bicicletta Scusa Wow Cioè È È saltato Gli ho ammazzati tutti Di tranne Quello Che è sulla mia testa Scusa Andiamo al parco dai Andiamo Bambino Lo chiamiamo Budino Bambino lo chiamiamo Budino Abbiamo la signora McDonald e Budino Bene E io mi chiamo Spezzatino E Spezzatino Bambino Agua So che lo sto chiedendo un vecchio Già tanti anni Che non è morto Sicuramente Z di Zoccolo Z Z Z Z Zagaro Z 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 il premere già al momento giusto bello questo l'ultima poi cambiamo livello che bello ma che sei sempre lì tu così sei tornato indietro questo ha fatto male gli imbonacci questo è bello questo voglio l'applauso se lo merito sono sempre qua quello di prima ero mai anche questo è bello applauso applauso via via no 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 proprio una situazione seria no allora allora come se non avessi bisogno ah si è accettata nella pancia sposta agra una sardina torna muovi ma non mi muovi mi sta ancora decato c'è proprio cos'è quella roba giù è la tua morte e non si voleva andare prevedo il futuro cosa stai aspettando? questo e? e ci leggi una sola torta sta attento ma ce la fa saltare? si ho paura io sto fermo si perché lo sai perché? perché tanto tu mori lo stesso ti hanno cucito io a redditi dai no ok wow e la bicicletta se ne va sì guarda poco perché c'è poco di mano tof il bambino è trucidato ok sì sì Sì, ma io dico là. Sei un porta... Oh, mio Dio! Mi sei arrivato! Morto, ma ti sei arrivato. Che vuoi stai? Questo, vai, vatti il 5. Non hai vinto, però comunque... Provo tu, provo tu. Eh, voglio vedere, voglio vedere. Eh, voglio vedere come mi fai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Ehi, dai. Sei arrivato a... Passi che non mi fai su Noob. Allora, il Noob, il Hitler. Wow, il Good, il fantastico. Tutte le i culo che arrivano, tutte le i culo. C'è il culo che è un puntaspino, un porcospino. Oh, butto! Te la fai fare! Non ho vinto come te, ma guarda che... Guarda il mio sedere. È un porta stuzzicadenti. C'è la freccia che è pronta. Guarda quanto in posto. Bello questo, però, eh. Non è facilissimo. Facilissimo per... 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 Bene, no? No. Che bel salto! Ma io conosco questo metodo qua che... no allora perchè non salta il mio ammongolo il mio ammongolo è chiarito secret eh? sii e dai ragazzi abbiamo finito niente promettiamo che il prossimo episodio sarà quello di turbo dismount perchè abbiamo fatto solo un episodio con una vergogna e... aspetta allora no io ti metto due dita negli occhi il mio amico freddo mi saluta il tuo amico freddo ha rotto le palle ha rotto le palle apri la bocca no perchè dopo mi infilia il freddo nella bocca ok ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao